Via Libera dell'amministrazione comunale ha i lavori di riamodernamento della gelateria in Punta Lido, a Riva, che verrà demolita e quindi ricostruita. Lo ha stabilito la società Lido di Riva, che ne detiene la proprietà. I lavori, se non ci saranno intoppi nella procedura burocratica, partiranno già in autunno. L'obiettivo è di concluderli in tempo per il taglio del nastro prima dell'estate 2018, così da sfruttare appieno la stagione turistica. Per la città di Riva è una novità non da poco. La gelateria Punta Lido da decenni è un punto di riferimento imprescindibile non solo per gli ospiti, ma anche uno dei luoghi più amati dagli stessi rivani. Il locale ha la necessità di un rinnovamento sostanziale, commenta il presidente della Lido, Andrea Dal Ponte, assai più vigoroso di una semplice rinfrescata degli interni. Stiamo ancora ragionando su molti aspetti, conclude, ma siamo intenzionati a dare corso ad un'operazione di grande qualità.